Siamo in compagnia del Ministro Roberto Speranza, al quale ovviamente diamo il nostro benvenuto all'Università degli Studi di Teramo. Ministro, la giornata di oggi viene inaugurata un'iniziativa molto importante che vede la sinergia di tante istituzioni. Un suo commento a caldo su questa splendida giornata. Sì, sono convinto che sia una giornata molto bella. La campagna di vaccinazione è l'arma più forte che abbiamo per uscire da questi mesi così difficili. E vedere insieme tutte le istituzioni, l'Università, il mondo delle aziende sanitarie, la Regione, il Comune, chiaramente il Governo con la mia presenza segnala una spinta importante sul terreno vero che deve farci aprire una fase diversa. Io penso che sia davvero un esempio positivo quello di aver voluto coniugare un simbolo del futuro, e cioè l'Università. Un simbolo positivo di chi ha voglia di guardare in faccia i prossimi anni per provare ad essere protagonisti appunto del futuro con questa battaglia. Perché questa è la battaglia più importante per dare davvero al nostro paese il futuro che merita e che tutti aspettiamo. Quindi grazie, grazie a tutti voi, è l'occasione mia utile per salutare tutta la comunità dell'Università degli Studi di Teramo. I nostri studenti in modo particolare che ci auguriamo al più presto possano tornare pienamente alla loro vita di studenti universitari. Ministro, la ringraziamo per questo saluto. La lasciamo andare perché sappiamo che il giro ovviamente del Lab continua e noi ci fermiamo e diamola lì alla regia per un po' di musica. Grazie.